Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e anche questa settimana un nuovo video a tema Harry Potter e questa volta vi porto in edicola e ragazzi edicola è praticamente sinonimo di panini e infatti da qualche giorno sono arrivato in tutte le edicole queste buste, questi starter pack per avviare la nostra collezione di trading cards di Harry Potter trading cards relative a tutti i film della saga di Harry Potter e naturalmente collezionabili e scambiabili qui all'interno di questa busta abbiamo il kit introduttivo che adesso andremo a vedere assieme come vedete è già aperto perché ve l'ho mostrato su Instagram qualora non mi seguiste già ragazziantonio.seria trovate tutti i link utili in infobox e all'interno di questo pack troviamo l'album raccoglitore, 3 bustine di cards più 3 carte in edizione limitata perché questa collezione che è composta da 216 card differenti conta all'interno di queste 216 card, 60 card molto particolari che sono rifinite in oro, argento e finitura arcobaleno e poi abbiamo 9 carte invece in edizione limitata le prime 3 carte le trovate all'interno di questo starter kit che adesso vi mostrerò mentre le altre 6 mancanti le troverete 3 all'interno del pacchetto che viene chiamato Patronus che trovate sul sito Panini e le altre 3 invece in un altro pacchetto introduttivo che si chiama invece Giratempo e che trovate sempre su sito Panini quindi 6 carte le trovate in esclusiva in questi pacchetti che trovate sul sito Panini e 3 carte le trovate invece all'interno di questo sacchetto che adesso andiamo a vedere assieme cosa contiene al suo interno abbiamo naturalmente l'album raccoglitore che è un album molto molto carino, molto bello perché è completamente plastificato come starete vedendo dal video e all'interno ha tutte le tasche per poter raccogliere le nostre card così anche da tenerle in sicurezza e non rovinarle ragazzi questa secondo me è un'idea davvero molto molto bella, originale non sono le classiche figurine da attaccare ma in questo caso abbiamo un vero e proprio raccoglitore e poi invece la copertina è formata da un opuscolo che adesso andremo a sfogliare assieme così anche il retro dove abbiamo la checklist di tutte le carte ma all'interno del sacco troviamo anche delle bustine per iniziare la nostra raccolta troviamo ben 3 pacchetti di trading cards ogni pacchetto contiene 6 card e naturalmente c'è sempre la possibilità di trovare quelle lì con le finiture in oro, argento o arcobaleno e all'interno di questa busta troviamo come vi dicevo le prime 3 card in esclusiva quelle in edizione limitata che sono qui e abbiamo questa con Edvige, la scopa questa con l'armadio svanitore e questa qui invece con il lago nero e Hogwarts sullo sfondo ragazzi credo che in video non rendano ma sono davvero molto molto belle e molto molto rigide come card quindi qualità assolutamente altissima e come vi dicevo all'interno del pack ci sono anche 3 bustine ma io oggi non mi limiterò ad aprire queste 3 bustine perché apriremo assieme un'intera box un'intera box che contiene ben 24 pacchetti di card quindi ragazzi direi che a questo punto è dovuto cambiare inquadratura e andare a sprucciare assieme le card e sfogliare anche gli opuscoli che troviamo all'interno dell'album andiamo cominciamo col nostro album che è davvero molto interessante visto che la copertina sia questa qui sul fronte che quella sul retro sono in realtà degli opuscoli e all'interno di questo qui che è sulla copertina quindi sul fronte del raccoglitore abbiamo una prima introduzione con le varie sinossi dei vari film di Harry Potter e infatti abbiamo la pietra filosofale la camera dei segreti il prigioniero di Hatskaban via discorrendo con una piccola anteprima delle varie card e poi le altre categorie come quella delle creature magiche quella degli oggetti magici e poi qui abbiamo invece le 9 card in edizione limitata di cui vi parlavo prima abbiamo infatti queste che sono le 3 card che abbiamo trovato all'interno di questo pack che sono appunto quella di Edvige quella del lago nero eccola qui e quella lì dell'armadio svanitore e poi abbiamo il pack Patronus dove troviamo queste altre 3 card e quello Giratempo dove troviamo queste altre 3 e ragazzi queste sono in esclusiva su panini.it e poi invece andiamo adesso a visionare l'opuscolo che troviamo alla fine del raccoglitore questo qui perché in questo caso all'interno invece le varie checklist quindi abbiamo la checklist di ogni categoria e ci viene anche mostrato come andare a disporre le nostre card all'interno del raccoglitore quindi è tutto super super organizzato quindi molto molto bello questo raccoglitore ma adesso passiamo all'apertura dei 3 pacchetti che abbiamo trovato all'interno dello starter pack quindi cominciamo da questo cominciamo dal primo e vediamo cosa troviamo all'interno eccole qui e direi di cominciare subito wow abbiamo già trovato una con la finitura arcobaleno che è davvero molto molto bella e abbiamo la lista con tutto il materiale scolastico davvero bellissima davvero molto molto bella e poi abbiamo anche questa che invece è dedicata al prigioniero di Azkaban abbiamo lupine, la bacchetta, il platano picchiatore o salice schiaffeggiante e poi vediamo ancora quali abbiamo giriamola al contrario abbiamo questa che è invece satinata davvero molto molto bella lo vedete anche dall'inquadratura è davvero molto molto particolare mi piace tanto e poi abbiamo un'altra card speciale che è questa qui sempre satinata e abbiamo questo poster con Lucius ma poi dove viene ricercato dove vengono ricercati mangiamorte e poi ancora abbiamo questa che invece è una card normale e ragazzi una chicca di queste card sono questi simboletti in basso perché le card quelle diciamo semplici quelle regolari sono classificate in base a questo simboletto qui in basso ad esempio qui abbiamo gli occhiali di Harry quindi questa card fa riferimento al primo film quindi la pietra filosofale in questo caso abbiamo la coppa di tasso rosso e in questo caso invece si parla del calice di fuoco quindi quelle con questo simbolo sono tutte quelle del quarto film adesso ne man mano le andremo a dividere in base al film apriamo un'altra bustina comunque siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo trovato tantissime card speciali in questa bustina e andiamo ancora avanti e vediamo cosa c'è all'interno ok sempre pietra filosofale ron sugli scacchi questa card speciale satinata prigioniero di Azkaban qui abbiamo il serpente e questo qui invece è dedicato alla camera dei segreti abbiamo il basilisco quindi secondo film e poi abbiamo qui una card speciale con Remus e Tonks e poi ancora card olografica arcobaleno col Patronus e quest'altra con Harry davvero tante tante card speciali e poi apriamo l'ultimo pacchetto dello starter pack e vediamo cosa c'è all'interno cominciamo da questa card speciale satinata con Python poi abbiamo card invece con i Mangiamorte quindi questa credo sia relativa al Principe Mezzosangue quindi sesto film poi abbiamo sempre card speciale ma questa volta della Camera dei Segreti e poi vediamo ancora qui la Umbridge e abbiamo ancora questo che invece abbiamo la Locandina quindi prigioniero di Azkaban terzo film lo mettiamo qua quarto film sesto film e poi altra card speciale Ordine della Fenice card satinata e abbiamo ciò con Harry quindi in questo caso quinto film lo andiamo ad inserire qui ma adesso ragazzi andiamo ad aprire l'intera box che contiene ben 24 pacchetti eccoci qui pronti andiamo spediti vediamo cosa c'è in questa bustina e al suo interno abbiamo Lame Granit primo film la andiamo a mettere qui prigioniero di Azkaban speciale Harry molto molto bella e ragazzi la qualità è davvero strepitosa io spero si noti dalla videocamera ma è qualcosa di davvero strepitoso qui abbiamo questo qui che invece è dell'ultimo film abbiamo Nagini qui in basso e la andiamo a mettere qui da questa parte e poi vediamo ancora uh molto bella questa col cappello parlante guardate sembra quasi che stia volando è davvero molto molto bella questa card speciale e poi altra card sempre dell'ultimo film che andiamo a posizionare qui anzi spostiamo un pochino queste card così ci entrano tutte passiamo al secondo pacchetto sono davvero molto molto soddisfatto fino ad ora e vediamo cosa c'è all'interno ok questa qui se non sbaglio l'avevamo già trovata quindi la togliamo qui abbiamo silente qui abbiamo invece la coppa tre maghi e poi cosa abbiamo abbiamo questa dal terzo film che la andiamo a mettere qui e poi abbiamo anche questa che invece è i doni della morte parte 1 che metteremo qui in alto e poi questa qui invece del cervo questa volta un po' più sfortunato ma ragazzi abbiamo ancora tantissimi pacchetti da aprire vediamo qui cosa c'è ok camera dei segreti Harry nel bosco qui calice di fuoco la andiamo a mettere qui prigioniero di Azkaban ragazzi guardate questa quanto è bella è una card in oro c'è il biglietto del Hogwarts Express ed è bellissima davvero super super bella questa la lasciamo qui in alto e poi abbiamo quest'altra che è una card speciale è il poster di ricerca di Bellatrix davvero tutte molto molto belle in questa bustina e andiamo ancora avanti abbiamo una montagna di bustine da aprire assieme ciò è Harry poi abbiamo prigioniero di Azkaban lo andiamo a mettere qui la Umbridge qua abbiamo il dissennatore col Patronus molto molto bella e vediamo ancora Harry nell'ultimo film nello scontro finale guardate quanto è bella anche questa e poi abbiamo anche la Meggranit qui nel principe mezzosangue altro giro altra bustina andiamo a guardare anche il contenuto di questa ecco qui ancora calice di fuoco lo andiamo a mettere qui camera dei segreti principe mezzosangue e qui abbiamo card speciale addirittura in rilievo molto molto bella anche questa con Hermione il suo Patronus e poi abbiamo lo specchio delle brame guardate quanto è bello e ragazzi se notate abbiamo anche qui la superficie più lucida e qui invece più satinata davvero ragazzi una chicca molto molto bella anche questa la mettiamo qui in alto tra le mie preferite e poi anche in questo caso Voldemort Doni della morte altra bustina andiamo a scoprire il contenuto guardate Ron Hermione super piccoli nel primo film qui abbiamo calice di fuoco alla fine del film ordine della fenice e mangiamorte con rilievi molto molto bella anche questa è due card satinate una dei doni della morte e una dell'ultimo film quindi parte 1 e parte 2 le andiamo a mettere qua apriamo un'altra bustina e vediamo cosa ci riserverà eccola qui abbiamo Ron a cavallo che Henry che studia durante il secondo film qui abbiamo un altro elenco con tutti i materiali del quidditch guardate sembra quasi anche in questo caso che il foglio sia in 3D che stia quasi volando sulla card davvero molto molto bella anche questa la andiamo a mettere qui e poi doni della morte e poi batilda bat doni della morte e poi altra card con la giratempo continuiamo le nostre aperture ragazzi mi sto divertendo davvero tantissimo ecco qui abbiamo Neville con il suo Oscar prigioniero di Azkaban qui abbiamo la locandina di Harry Potter e l'ordine della fenice molto molto bella anche questa e poi guardate card incantesimo pingardium leviosa quindi momenti iconici della saga e poi questa molto bella con l'espresso per Hogwarts guardate quanto è bella questa mettiamola qui e poi abbiamo anche questa molto molto bella ragazzi ha questo effetto che sembra quasi 3D anche in questo caso sono davvero molto molto belle abbiamo ancora tantissimi pacchetti da da questo video durerà un sacco ma so già anche che vi piacerà un sacco ecco qui Harry con l'uovo della prima prova abbiamo il nottetempo su card speciale poi il signore e la signora Weasley e poi abbiamo questa con l'espresso e la Ford Anglia e poi abbiamo anche quest'artwork con Harry questo e Voldemort quindi è relativa all'ultimo scontro finale molto bello anche questo e poi quest'altro che invece fa riferimento all'ultimo film che andiamo a mettere qui altra bustina e poi ecco qui abbiamo Lupin in versione umano e Lupo Mannaro abbiamo anche il Platano picchiatore dal secondo film qui abbiamo un logo con Doomstrang relativo al torneo tre maghi quindi lo stemma di Doomstrang davvero molto particolari le card speciali qui abbiamo il macchio nero guardate quanto è nera questa card e poi abbiamo ancora la locandina dei doni della morte parte 2 molto molto bella e poi invece doni della morte Harry e Ginny eccoci qui altra bustina abbiamo un piccolo Draco Malfoy un Harry pronto per la sua prova al torneo tre maghi un Harry cresciutello nell'ordine della fenice che va al tribunale e poi Malocchio Mudi ordine della fenice principe mezzosangue Harry è silente nella grotta e principe mezzosangue draco che invece va nell'armadio svanitore dentro la camera delle necessità altra bustina abbiamo fiero becco prigioniero di Azkaban ordine della fenice ascensore del ministero ermione saputella del primo film orcrux in questo caso la coppa di tasso rosso e poi numero 199 Ron che si lancia all'attacco e poi abbiamo ermione nei doni della morte che legge la biografia di silente scritta da rita skitter altro pacchetto adesso abbiamo Harry che si batte col basilisco un artwork della tana Harry che riceve le lettere nel primo film e poi il simbolo l'artwork dei doni della morte Voldemort che lotta contro Harry e poi abbiamo il nostro drago durante la conferenza la riunione con tutti i mangiamorte nel penultimo film altra bustina andiamo a guardare subito cosa c'è al suo interno ecco qui sbustata abbiamo la prova con Harry e Hermione credo che questa l'avevamo già trovata poi abbiamo quest' artwork sul quidditch molto bello dissennatori del terzo film qui abbiamo piton con la cerva e poi abbiamo di nuovo piton con lo sfondo arcobaleno e luna che in questo caso si va a posizionare nel film del principe mezzosangue sbustiamo anche questa e abbiamo di nuovo torneo tre maghi in questo caso il ballo del ceppo io ancora non avevamo trovato poi abbiamo agrid peter minus nel prigioniero di azkaban qui abbiamo cedric digori nel calice di fuoco abbiamo la coppa tre maghi con questa card con sfondo arcobaleno molto molto bella e poi abbiamo l'ultimo film con una mcgranit super incavolata altra bustina andiamo a tirarle fuori e vediamo cosa troviamo abbiamo questo che è un altro artwork con Harry e Piton anzi no scusate Harry e Voldemort l'ocandina della camera dei segreti ho trovato un altro biglietto per Hogwarts mi spiace un po' se è un doppione però è talmente bella che vanno bene anche due e poi abbiamo questo che è un artwork su Gini ragazzi guardate quante card speciali sono davvero tutte una più bella dell'altra questa la sala comune di seppe verde nella camera dei segreti e poi ancora prigioniero di Azkaban e abbiamo Hermione con Harry e Fiero Becco altra bustina ed ecco che abbiamo il professor Lupin prigioniero di Azkaban un giovane Tom Riddle il primo professor Silente e poi abbiamo l'artwork che avevamo già visto prima e qui abbiamo Harry con Voldemort faccia a faccia e un Hermione pensierosa col medaglione di serpe verde al collo abbiamo ancora qualche bustina da aprire assieme e abbiamo Dobby che non avevamo ancora visto il calice di fuoco bellissimo artwork e poi il diario il ricordo di Tom Riddle e qui abbiamo una card speciale con Sirius Black e qui invece i doni della morte parte 2 la locandina del film e qui invece Grimwood Place parte 1 doni della morte altra bustina ci stiamo avvicinando al fondo della nostra scatola della nostra box ed ecco che abbiamo una meride quindi quarto film qui abbiamo l'ardemonio ordine della fenice e poi abbiamo questo artwork molto molto carino con grattastinchi e crosta anche questo molto bella questa card molto bella con Harry Ron Edvige c'è un meme che gira su Edvige che sgrana gli occhi che è davvero bellissimo e poi abbiamo Dobby e Quidditch bustina molto molto fortunata restano le ultime 5 bustine da aprire assieme ma andiamo avanti spediti eccoci qui uh Bellatrix che non avevamo ancora visto l'ocandina del primo film della pietra filosofale questa è la versione americana della copertina poi abbiamo Piton che avevamo già visto abbiamo questo che è Ron col suo patronus molto molto bello qui Ron che gioca a Quidditch nel principe mezzosangue e poi Harry disperato nell'ultimo film quart'ultima bustina da aprire assieme ecco qui Cedric Diggory nel labirinto poi abbiamo Harry Potter e il principe mezzosangue la locandina del film qui abbiamo Hagrid nel prigioniero di Azkaban Silente nell'ordine della fenice che lotta con Voldemort e poi abbiamo ultimo film il trio a dorso del drago della Gringot e poi quest' artwork sulla mortenzia con Ron innamorato ancora tre pacchetti alla fine abbiamo il nostro Neville la sezione proibita del primo film Harry sul lago sulle sponde del lago nero che evoca un patronus per difendere Sirius e poi abbiamo nuovamente l'artwork di Sirius questo molto molto bello abbiamo Diagonale davvero bellissima e Ermione penultima bustina abbiamo una piccola Ginny che va a fare danni nella camera dei segreti il logo lo stemma di Bubaton molto molto bello anche questo poi l'ocandina del prigioniero di Azkaban e poi abbiamo ancora Ron col Patronus Harry nei doni della morte quando arriva a Villa Conchiglia e un altro artwork satinato molto molto bello invece di Hogwarts guardate quanto è bella questa card davvero molto 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 bella ultimo pacchetto rimasto nella nostra box speriamo sia fortunato come gli altri e vediamo cosa andiamo a trovare ok questa non l'abbiamo ancora vista si tratta di uno dei decreti della professoressa Umbridge e poi abbiamo un piccolo Harry nel primo film la locandina del calice di fuoco quindi ci mancava se non erro abbiamo l'Orcrux questo forse lo avevamo già visto e poi abbiamo questo che è la lista delle cose da portare a Hogwarts e poi l'ultima card è quella relativa l'ultimo film con i ragazzi che si preparano alla battaglia di Hogwarts ragazzi abbiamo aperto tutti i pacchetti sono davvero bellissime queste card ma adesso andiamo a tirare le nostre conclusioni è stata una vera faticaccia ragazzi ma qualcuno doveva farlo siamo riusciti ad aprire tutti i pacchetti di trading cards che avevamo a disposizione e ragazzi mi piacciono tantissimo queste nuove card di panini secondo me si sono davvero superati questa volta perché la cura è davvero maniacale le card sono di qualità strepitosa mi piacciono tantissimo le card quelle arcobaleno quelle in oro e argento sono davvero molto molto belle e ben realizzate la stampa è qualcosa ragazzi di eccezionale che spero si sia vista bene attraverso il video ma dal vivo sono qualcosa di pazzesco e mi piace tantissimo che sia stato pensato anche un album raccoglitore con le varie tasche in plastica che sia stato aggiunto anche un opuscolo con la checklist dove andare a segnare tutte le card che già abbiamo mi piace anche che ci venga data una una disposizione un aiuto su come andare ad inserire le card all'interno del nostro album e anche la parte delle varie categorie spiegate all'interno della copertina dell'opuscolo che funge da copertina mi piace davvero tantissimo davvero tanto tanto ma adesso ragazzi voglio assolutamente sapere cosa ne pensate voi fatemi sapere nei commenti mi raccomando fatemi sapere se le avete già comprate se le conoscevate già io sono davvero super super soddisfatto e come sapete potete contattarmi su tutti i miei social sono sempre a vostra disposizione in infobox trovate i link al sito panini per acquistare le due box giratempo e patronus con le card esclusive e poi naturalmente trovate la raccolta in tutte le edicole delle vostre città detto questo ragazzi io credo che devo proprio chiudere il becco e darvi appuntamento a prestissimo con tante altre novità ciao ciao